Davide Cassani tu sei stato un uomo squadra, sai cosa vuol dire essere un uomo squadra? E hai sempre avuto nel cuore Michele Scarponi, proprio perché aveva qualcosa di più di tanti altri corridori. Perché è sempre stato un capitano anche quando doveva aiutare altri, perché è sempre stato un punto di riferimento, perché è sempre stato un esempio, perché è sempre stato il primo a mettersi in discussione e a sacrificarsi per gli altri. Ed è per questo che ho sempre avuto una stima immensa in Michele, proprio perché da ex corridore, da ex gregario, so che cosa rappresenta un corridore come Michele Scarponi in una squadra. Un aggettivo per definire l'uomo Michele Scarponi. È stato unico, perché è riuscito davvero a condizionare e a decidere delle gare, come il Giro d'Italia. Perché nella tappa di Risul, quando ormai Vincenzo Nibeli aveva perso quel Giro, perché aveva quasi 5 minuti di ritardo a tre giorni dalla fine, è riuscito ad accompagnarlo, a sacrificarsi per lui. Poi naturalmente il Nibeli è andato fortissimo, perché ha meritato quel Giro. Però Scarponi è stato determinante e quindi è stato esemplare.